Buongiorno a tutti, vecchi cuori bianconeri, sì oggi torna il vecchi cuori bianconeri che ogni tanto fa sempre piacere. Come state? Spero tutto bene, ieri abbiamo visto Kennan il Diz volare agli europei grazie a una doppietta di un ex bianconero, un'ex conoscenza di Miral. Doppietta di Miral agli europei che lo porta ai quarti con la Turchia e è una storia troppo bella per non essere citata in apertura di questo video. E poi sono andati avanti in Coppa America anche Bremer, Danilo e il neocquisto Douglas, Luis, che la Juventus ha prontamente ringraziato, ha fatto i complimenti, le congratulazioni a questo terzetto. Tutto a tema Brasile, parto da quello che è un commento che nelle ultime ore sto leggendo tanto, e cioè le preoccupazioni relative alla maglia. C'è un tweet di 5 minuti fa, di Romeo Agresti, che conferma che la maglia verrà presentata il 16 di luglio e verrà presentata senza sponsor. Quindi molto probabilmente la campagna marketing della Juventus quest'anno partirà con una maglia priva di sponsor davanti, dove c'era Jeep, Jeep che è stata salutata due giorni fa, il primo luglio, dato che si era conclusa quella collaborazione. Poi, dice Romeo, per regolamento lo sponsor potrà essere applicato durante la stagione in un qualsiasi momento. L'abbiamo visto anche con l'Atalanta, per dire, in questa stagione dove lo sponsor davanti alla maglia cambiava spesso. Cosa ne penso? Credo che sia la scelta corretta da parte di Juve. E spiego, perché potrebbe essere complicato dire scelta corretta non avere lo sponsor. La Juventus si aspettava di ricevere delle offerte di un certo tipo, sia economiche, sia di prestigio. Perché ovviamente lo sponsor che metti davanti alla maglia della Juventus è uno sponsor che va a identificare il brand e la squadra. Faccio un esempio. Jeep che è stato con noi per tanti anni, praticamente dal secondo, terzo anno di Conte, una roba del genere, l'ha indossata. Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Cristiano Ronaldo, Tevez, Morata, Di Bala, Pjanic, Chedira, Matuidi, Douglas Costa, Manzukic, Bo, Pirlo probabilmente l'ha indossata anche Pirlo. Cioè ce ne sono stati tanti di campioni, quanti me ne sfuggono, quanti me ne stanno sfuggendo in questo momento che saranno indispensabili, saranno eterni nella storia della Juve. Quanti? E tu le identifichi, no? Cavolo. Jeep. Quindi è ovvio che la Juve non può accettare pizzeria da pinco pallino, pizza a metà presto il giovedì da mettere avanti alla maglia. Quindi se non sono arrivate offerte che soddisfavano i dirigenti dal punto di vista del prestigio e dal punto di vista economico, io davvero piuttosto non metto niente. Non metto niente. Poi la Juve può lavorare per trovare lo sponsor che le piace di più durante questi mesi e poi piaccicarlo, appiccicarlo avanti alla maglia. Poi la maglia senza sponsor, devo dirvi la verità, così bella, pulita, con solo la coccarda della Coppa Italia, per me è favolosa. E quindi quando uscirà la maglia, che verrà presentata appunto il 16 luglio, sarà sicuramente uno dei primi acquisti che andrò a fare. E poi vedremo se ci saranno già anche i nomi e i numeri, perché c'è quell'Ildis 10 che freme. Non vedo l'ora di averlo nel caso. Quindi questo era il primo argomento da affrontare, di discussione, perché ho visto che comunque nei video scorsi, nei commenti, mi sono ritrovato tanti che mi chiedevano ma non parli mai dello sponsor della maglia? Aspettavo delle notizie concrete. Ecco, le notizie sono arrivate e quindi non ci sarà sponsor per il momento. Poi magari, oh, da quel 16 luglio magari io lo trovo. Chissà. Queste però sono le informazioni che abbiamo al momento. Calafiori! E' un po' un pianto questo argomento, vi dico la verità. E' un po' un pianto. Perché leggere dei derby legati alle squadre inglesi che vanno a offrire 40, 45, 50 milioni per Calafiori mi sta facendo venire un po' di tristezza. Ragazzi, l'abbiamo detto tante volte, eh? Calafiori. Calafiori è uno degli obiettivi della Juve. Calafiori vuole la Juve. La Juve vuole Calafiori. Tiago Motta vuole Calafiori. Calafiori vuole Tiago Motta. Però alla fine è su Juve e Bologna che non trovano l'accordo. Juve e Calafiori ce l'hanno già. Però se poi il Bologna pretende 50 milioni di euro cash, la Juventus non può fare questo tipo di trattativa. Ma non la Juventus. Nessuna squadra in Italia può portare 50 milioni di euro cash al Bologna per Calafiori. E Calafiori è un giocatore fantastico. Giocatore fenomenale. Giocatore che è stato uno dei migliori, forse uno dei pochi a salvarsi nella spedizione europea di quest'anno. Quindi a tutti gli effetti uno dei principali, come possiamo dire, prospetti italiani di questa nazionale, di questa nuova generazione di talenti. Calafiori vorrebbe venire alla Juve. Ma la Juve quei soldi non li mette. Ed è una regola del mercato. E chi vende che fa il prezzo, poi se il mercato decide che quel prezzo è adeguato, allora va bene. Poi vi dico tranquillamente, dovesse andare al Chelsea, un po' meno all'Arsenal, ma dovesse andare al Chelsea, Calafiori diventa un giocatore che a gennaio o a giugno prossimo può tornare in Italia senza problemi. Tranquillamente. Perché il Chelsea è una squadra che da anni è pecca, pecca di organizzazione sportiva. Comprano, comprano secondo le mode, comprano secondo i momenti, spendono, spendono, spendono per non dare garanzie. Ricordate due anni fa, a gennaio, hanno comprato 50 giocatori. Non si qualifica neanche in Champions. È ovvio che la Premier League è un campionato di altissimo livello, molto competitivo, dove qualificarsi in Champions è diventato oggettivamente un'impresa perché ci sono tante squadre. Basti vedere la Stone Villa che si è qualificata quest'anno, il Newcastle che si è qualificato l'anno scorso. Questo però ci dice anche quanto Douglas Lewis probabilmente sia stato impattante nella stagione dell'Aston Villa. Io sto leggendo tanti tifosi di altre squadre che prendono un po' in giro Douglas Lewis e dicono Ma chi ha comprato la Juve? A me piace che a inizio luglio ci siano tifosi di altre squadre che ridono degli acquisti della Juve. Anche a me piacerebbe ridere degli acquisti degli altri, però faccio un po' fatica e diventa complicato. Anche perché la Juve, oltre a Douglas Lewis, Kefren Turam e di Gregorio, perché si è chiuso pure di Gregorio e questa settimana ci saranno le visime mediche, sta lavorando su altri fronti. Uno di quei fronti era Calafiori, ma quei soldi non ce li ha nessuno in Italia. Liquid i cash. Quindi vediamo cosa succede. Se il giocatore pianterà i piedi e dirà no, io voglio la Juve, quindi si proverà a trovare un accordo molto complicato. Che possa essere così, vedremo. Vedremo anche fronte attaccanti, dato che Morata ieri ha sottolineato sui social la sua volontà di rimanere all'Atletico e vincere qualcosa con l'Atletico. Io sono sempre un po' restio a fidarmi dei post social dei calciatori. Le ho viste troppe. Le ho viste troppe dichiarazioni social. Io mi ricordo Piqué Neymar rimane. Quanto è rimasto poi Neymar al Barcellona? Proprio ancora lì, non si è mai mosso. Quindi io aspetterei un attimo. Posso poi, magari Morata rimarrà all'Atletico, assolutamente. Però i post social dei calciatori sono sempre un po'. Un un popular opinion. Devo dirla. Devo dirla. Su Kefran Turam. Ma l'ho già detta in realtà. Se andate a vedere il video di presentazione della trattativa legata a Kefran Turam che ho fatto qui sul canale, l'abbiamo preparato in live, tra l'altro, la settimana scorsa o due settimane fa. E anche oggi torniamo in live. Oggi è pomeriggio, quindi non mancate assolutamente. Però lo dicevo. Cioè, il fatto che oggi la Juve prenda Kefran Turam e faccia andare via Rabiot, per me, per il peso che può dare dentro una partita il giocatore Rabiot e il peso che può dare il giocatore Turam, la Juventus ci rimette. Oggi. Perché Rabiot è oggettivamente oggi un giocatore superiore. Però stiamo parlando di un giocatore che è nella massimo del rendimento sportivo, perché è un classe 95, l'anno prossimo farà 30 anni, perché è un titolare nazionale francese, perché ha oltre 100 presenze nella Juventus, perché è al suo quarto o quinto anno a Juventus, non mi ricordo, perché ha giocato nel PSG. Kefran Turam è un giocatore che sta iniziando la sua carriera, che ha fatto delle belle stagioni in Ligue 1, nel Nizza, e che ora si candida, dato che è uno dei prospetti più interessanti. Significa che è una trattativa sbagliata a prendere Turam e non rinnovare Rabiot? No, per me è la trattativa giusta. È assolutamente la trattativa giusta, la trattativa corretta. Io, ripeto, non avrei rinnovato Rabiot neanche l'anno scorso dopo un campionato meraviglioso, quindi figuriamoci se lo voglio rinnovare adesso e a cifre elevatissime e a tanti anni di contratto. No, è una cosa che io non vorrei fare. Poi se Tiago Motta dice, oh, io senza Rabiot non posso giocare al football, allora rinnovate Rabiot. Però sono anche onesto nel dirvi che oggi la Juventus prende un giocatore che in prospettiva, o comunque nel prossimo anno, anno e mezzo, può diventare veramente molto forte, ma sul quale bisogna lavorarci. Cioè stiamo prendendo un giocatore che non ha mai giocato in Serie A, non ha mai lavorato con Tiago Motta, non ha mai giocato in una squadra forte come la Juve. Quindi è ovvio che ci vorrà un attimino. Poi io sono contentissimo dell'acquisto perché è un acquisto a costi contenuti. È un acquisto a ingaggio contenuto, perché stiamo parlando di due milioni e mezzo di stipendio di un giocatore che andava in scadenza di contratto e solitamente sappiamo quando si avvicinano alle scadenze e quei giocatori richiedono anche degli stipendi folli, fuori dal mondo. È un giocatore che la Juventus ha inseguito tanto, è un giocatore che la Juventus ce l'ha nel cuore, scusate, per forza di cose, per il passato del papà. E quindi per me è un grande, grandissimo sì. Però sono anche onesto con voi nel dirvi che non abbiamo comprato Kevin De Bruyne, abbiamo comprato Tony Cross, abbiamo comprato un giocatore giovane o comunque che ha iniziato questa sua parte di carriera a farsi vedere, a farsi amostrarsi, a farsi inseguire, a farsi monitorare. È un colpo che andava fatto, 100%. Io sono contentissimo che Giunto l'abbia fatto questo doppio colpo, però attenzione a identificarlo già come titolare inamovibile della Juventus. Poi magari è così, eh? Poi magari è così, però io voglio andarci un po' cauto, perché è un giocatore sicuramente utile, interessante, fondamentale anche, secondo me, per giocare in coppia con Douglas Lewis, però oggi, e lo dico da non supporter, da non fan di Rabiot, Rabiot è un'altra cosa, è un'altra cosa. Poi è la scelta giusta, per me qui neanche un dubbio. Voglio sapere le vostre opinioni, qui sotto nei commenti, fatemi sapere tutto quanto e noi ci vediamo oggi pomeriggio in live per chiacchierare insieme. E lo sapete, quando andiamo in live succedono sempre un botto di robe, quindi non mancate, ciao!